Musica Sofía, Luca Latavuglia, Laura, Luna, ciao, sono Giulia, sono Matteo, Alessia, ciao, sono Paolo, Maciubicciu, Andrea. Pure in vacanza penso sempre a sciare, non alla fagiana. Venite a visitarlo. Vabbè, allora, tolto Carlo, che ci conosciamo da tanto tanto tempo, sono in mezzo al Perù, nel deserto, con un gruppo di sconosciuti e sto per prendere un autobus che dura 12 ore, farà 700 chilometri e stanno mettendo Gigi D'Agostino. Ho sciato nel deserto. Ragazzi, ma dai, ma quanto è bello!